Perché si sta sulla testa? Eh sì, non dovrebbe stare sulla testa, per lo meno gli addestratori non consentono agli uccelli di stare sulla testa, sulla spalla, sul braccio, sulla mano, ma sulla testa no. Ecco, stai lì, stai lì, stai lì, stai lì, stai lì, ferma, stai lì, ferma, risiediti. No, dai, no. Siediti, siediti. Dove vuoi andare? Volevo spostare la sedia perché ti impediva la ripresa. Direi che ha preso, aspetta, che l'ha preso. Tranquillità.